Bella a tutti mi slime qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di Hall of Fame di Polo G lo so lo so vi avevo detto che avrei dovuto reactarlo ma in realtà poi un po non mi sono trovato io a livello di tempistiche e un po ho pensato meglio di fare una recensione in modo tale da parlarne a 360 gradi e devo dire che dopo che avevo finito di iscrivervi il video sono abbastanza contento di queste idee spero che piaccia anche a voi perché davvero di questo album ne volevo parlare in maniera ben approfondita inizierei con qualche info generale in modo tale da presentare più o meno questo progetto è uscito l'11 giugno e Hall of Fame è il terzo album studio del rapper di Chicago preceduto da Day Legend uscito nel 2019 e The Goat uscito l'anno scorso si chiude anche questa trilogia così come ha detto anche Polo G sui suoi social lui è uno dei miei rapper preferiti ci ho fatto anche un video ve lo lascio in descrizione parlo della sua vita e della sua carriera e questo è anche il motivo per il quale avevo tanto hype per questo progetto che però non è stato soddisfatto in pieno infatti già vi posso dire che è un album che non mi è piaciuto tantissimo ma ora con calma andremo a spiegare ogni piccolo particolare First Week ha venduto 143.000 copie posizionandosi così al primo posto della chart di Billboard in primi su un record per Polo G perché con i suoi due precedenti album non era riuscito a stabilire questo numero di vendite ma soprattutto una vittoria ancora più importante se si pensa che durante la stessa settimana era uscito Culture 3 dei Migos un altro album sopra il quale c'era un hype assurdo ora analizziamo un po' la tracklist in modo tale anche da entrare nel pieno del video e di capire effettivamente di cosa stiamo parlando 20 tracce 12 feat e 4 singoli estratti prima dell'uscita ufficiale dell'album parlando delle critiche che mi avete fatto un commento che ho letto diverse volte è stato che forse il commento traccia per traccia era troppo esagerato e diventava troppo pesante motivo per il quale ho deciso di suddividere le canzoni dell'album in dei blocchi partirei proprio dalla prima di queste sezioni in cui ho deciso di raggruppare i quattro singoli usciti prima del drop ufficiale dell'album vale a dire rap star gang gang epidemic e give no fuck a mio avviso almeno una due tracce di queste quattro sono anche tra le migliori dell'album o comunque quelle che alla fine mi sono più piaciute mi viene subito in mente per esempio gang gang arricchita anche dalla presenza di lil wayne che secondo me droppa uno strofone ma devo dire che anche le altre bene o male non mi sono sembrate delle cattive tracce tutto questo per dire che comunque i buoni presupposti per un gran album ci fossero passiamo invece alle top 5 canzoni che più mi sono piaciute non in ordine ma sono losses con young thug bloody canvas go part one featuring g erbo clueless con pop smoke e faviforen e broken guitars con scori se mi chiedete in particolare di scegliere una di queste canzoni io vi direi tutta la vita bloody canvas che secondo me anche a livello oggettivo si sente che quella canzone che c'ha quella marcia in più racchiude in pieno l'essenza di polo g lo storytelling a tratti autobiografico forse altre bare sono un po più fantasiose ma in linea generale racconta il lifestyle delle strade perdere il proprio amico cosa che tra l'altro conosce molto bene per chi in età adolescenziale ha perso gucci pensate che proprio in polo g la g sta per gucci ne parlo meglio anche nel video fatto su di lui il desiderio di vendetta che viene comunque a una persona o soprattutto a un individuo che è abituato a crescere in mezzo a strade e criminalità e insomma tutto ciò che caratterizza poi la vita di un ragazzo che magari non nasce in un bel quartiere ed è costretto a fare delle cose insomma un po spiacevoli vi consiglio assolutamente di leggere il testo di questa canzone per quanto riguarda le altre credo che la più contestabile sia broken guitars è vero forse ci sono due tre canzoni più belle ma ho deciso di inserire questa per un semplice motivo è stato forse l'unico pezzo in cui ho visto in polo g quella voglia di far qualcosa di nuovo qualcosa che forse prima non aveva mai fatto a partire dal beat con le chitarre che è vero è molto ricorrente nella carriera di polo g e anche in quest'album e ne parleremo sicuramente dopo ma in questo caso trovo che si caratterizza perché queste chitarre sono un po più rock insomma hanno più un sound da rock star passatemi il termine ed è proprio questa l'attitudine che ha polo g in tutta la traccia concedendosi qualche acuto o comunque parte cantata e prendendo qualche melodia al di fuori di quelle che prende di solito e giacché stiamo in tema io direi di cominciare anche a parlare di qualche difetto di questo progetto passando anche alla sezione dei top 5 flop in realtà sono quattro perché la quinta traccia non mi veniva e non volevo mettere una che magari non si meritava di essere qui ma essenzialmente ho raggruppato le canzoni che meno mi sono piaciute per svariati motivi toxic zut freestyle surreal è fame and riches con roddy rich alcune di queste per esempio non mi hanno fatto impazzire a primo ascolto ed è il caso di toxic e fame and riches soprattutto in quest'ultima la strofa e ritornello di polo g direi che è uguale o molto simile ad almeno cinque canzoni che ha già fatto nella sua carriera zut freestyle che poi per esempio per me è un filler o comunque una traccia un po mediocre che mi è sembrata essere messa lì solo per far numero e in parte forse è così anche per surreal che è vero è una canzone un po diversa anche dal solito sound che ha polo g ma messa a quel punto della tracklist secondo me ha aiutato solo ad appesantire il lavoro ma a prescindere da questo tolte queste quattro tracce che poi su 20 forse non è neanche un numero così elevato il problema è che ce ne sono almeno altre tre quattro se non cinque in cui il flow di polo g è davvero sempre lo stesso potevo tollerare e ho tollerato questa cosa con the goat perché è il tuo secondo album studio se ancora giovane ci sta lo capisco però se tu mi fai tre album con lo stesso flow e le stesse linee melodiche io comincio anche un po ad annoiarmi e non fraintendetemi per carità a me polo piace tantissimo anche così com'è con queste linee melodiche con questo flow però credo anche che visto il suo enorme talento è anche giusto aspettarsi qualcosina in più vi faccio capire un po meglio il mio discorso con the legend ha dimostrato di essere uno degli emergenti più interessanti con the goat di essere un grande rapper con all of fame lo step successivo sarebbe dovuto essere passare da grande rapper ad artista e a mio avviso questo non è successo o comunque è successo ma in parte l'altro gran difetto di questo album sono state sicuramente le produzioni per carità tutte abbastanza carine poi chi più chi meno ma troppo simili tra di loro e questo andando a fare un album di 20 tracce può diventare un problema parliamo un po dei feat vi dico che ho apprezzato di più al volo e poi concludiamo dando una valutazione finale all'album perché anche questo me l'avete scritto in tanti sotto la recensione a slime language 2 e ho pensato che fosse effettivamente poi un'idea carina non è proprio una top 5 ma vi sparo i nomi che più mi hanno intrigato metterei come primo forse perché mi è piaciuto davvero tanto g erbo poi sicuramente lil wayne che come dicevo prima in gang gang secondo me ha spaccato e poi tagga pop smoke e faviforain arriviamo al momento più atteso del video probabilmente la valutazione che do a questo album per me sinceramente è un 5 e mezzo ho dato questo voto perché sicuramente c'è del potenziale e si sente il talento che appolo ma allo stesso tempo è un progetto che non vedo poi così solido e ha qualche difetto che per me è difficile ignorare ma questa chiaramente è una valutazione del tutto personale qual è la vostra quale voto dareste ad all of fame se avete una traccia preferita o se avete una top 5 così come ho fatto io scrivetemi tutto questo qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video altre reaction così va arriva la notifica bella top condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat ciao 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 ciao